La disponibilità mia di continuare per una strada di una continuità perché ci sono molte cose da fare ancora. Il primo cittadino di Rosà, Paolo Bordignon, annuncia la sua disponibilità a ricandidarsi se passerà la norma che consentirà il terzo mandato ai sindaci dei comuni con più di 5.000 abitanti. In caso contrario, assicura che farà sempre parte della squadra e si presenterà agli elettori rosatesi forte di quel 65% di preferenze raccolto nel giugno del 2017. Oggi, nella conferenza stampa di fine anno, snocciola i numeri della sua amministrazione e presenta il bilancio di previsione per il 2022. Nessun aumento delle imposte, debito ridotto in 10 anni del 50%, passato da 14 a 7 milioni, opere pubbliche in partenza nei primi mesi del prossimo anno per 2,9 milioni di euro. Interventi importanti come quello di Palazzo Cecchin, di riqualificazione non solo del palazzo, con la costruzione anche di un'aula multifunzionale di 150 posti, ma soprattutto di una ricostruzione anche della parte centrale della piazza, per cui una riqualificazione generale della piazza con un abbattimento anche dei fabbricati faticenti lungo la statale. Per cui mettiamo mano al centro di Rosama, mettiamo mano anche alle nefrazioni, portando la fibra ottica nelle due piazze di Travetore e Sant'Anna. Mettiamo mano un po' alle piscici Glabia, andiamo a costruire il collegamento con Cartigliano nella parte sud, praticamente Travetore, verso il centro di Rosà.